Sorrisi e tanta voglia di volare ancora più in alto. I soci dell'aeroporto Marconi hanno approvato il bilancio far nuovi servizi, nuove rotte e numeri che possono generare soddisfazione in tutti gli azionisti. Ricavi consolidati in crescita del 15.1%, da oltre 99 più di 114 milioni, con trend positivo per i servizi aeronautici e non e una compenetrazione del territorio senza pari oggi in Italia. Assolutamente sì, non solo sotto il profilo dei numeri ma anche delle aspettative in questo anno 19 che è cominciato sotto il migliore degli auspici. Bella assemblea degli azionisti, molto costruttiva e soprattutto una compagine privata oltre al patto pubblico con Camera di Commercio in testa direi fortemente motivate a sviluppare questo scalo e questa area. Quindi oggi una prova di coesione che credo porti bene a quello che dovremmo intraprendere speriamo nel breve per lo sviluppo dell'area rapportuale. Al di là delle linee che conoscete, insomma abbiamo sviluppato e promosso in questo periodo, la grande sfida è quella degli investimenti e dello sviluppo dell'area. Questa è la sfida che riguarda appunto i soci pubblici e anche i soci privati. Numeri positivi da dieci anni ormai, soci soddisfatti di un richiamo alle istituzioni per accompagnare una crescita ancora più elevata nei prossimi esercizi. I numeri sono stati già raccontati ma rappresentano un 2018 molto positivo, abbiamo raggiunto il nostro miglior risultato degli ultimi anni sia in termini di sviluppo passeggeri sia di risultati economici, utili a quasi 18 milioni come sapete, miglioramento della reddittività. La società è una società patrimonialmente e finanziariamente molto sana che è cresciuta nel corso di questi anni, ha migliorato dalla quotazione l'utile aumentato oltre il 150% e i margini dell'80%. Questo però a fronte di un lavoro che è stato fatto da parte delle persone, delle donne e degli uomini dell'aeroporto di Bologna che voglio ringraziare veramente per tutto il lavoro svolto. La vera sfida del prossimo mandato che parte sostanzialmente da oggi è quella di realizzare queste infrastrutture di cui abbiamo veramente bisogno e abbiamo avuto tutte le autorizzazioni da parte dei soggetti nazionali, quindi da parte di ENA che è anche da parte del Ministro dell'Ambiente con la nostra societabilità alla via, ora dobbiamo passare attraverso la concertazione a livello locale per avere le autorizzazioni per realizzare.